As I step down from the train, there to meet me is my mama and father. C'è una Tristan. Giolo, giolo. Si sparge la voce qua. Adesso cerchiamo di trovare il primario. La cosa mi puzza un po', eh? Tu sospetti? Sospetti per poco. Prima dici che doveva morire qua. Non muore, doveva morto là. Non è possibile. La cosa la dobbiamo pure capire. Salve. Il primario? Io sono il primario. Vogliamo parlare, vogliamo capire la situazione, perché non è possibile che un cristiano appeso là. Certo, certo. Vi do spiegazioni. Quando sta morto, è morto. Lo so, lo so, lo so. Purtroppo queste cose accadono in una clinica psichiatra. Che cacchiamo, viene uscita che accadono, cioè non è che il morto accade. Non si scherpe, eh? Comunque non è normale e dovete ammettere. Anche perché in un primo momento è stato detto che è stato visto nel fiume. E certo. Adesso l'abbiamo trovato là. E non ho capito che stiamo giocando qui. Non stiamo giocando qui. Cerchiamo di capire. Qualcuno che mi faccia capire, perché io devo capire. Allora, io vi spiego quello che voi volete capire. Permettetemi. Allora, scusatemi, stamattina il paziente stava bene. Stava bene, stamattina? Stamattina, si è alzato bene. Ha tentato il suicidio. Poi è arrivato Gigi e l'ha salvato. È arrivato Gigi e l'ha salvato. È arrivato Gigi e l'ha salvato? Sì, c'è questo Gigi, sarà il bagnino. Come bagnino? Come bagnino? Non sembra la bagnina. Non c'è, non c'è, non c'è il bagnino. Che ne so. Chi è questo Gigi? Scusa. Che bagnino è l'altro paziente. Collega suo del paziente. Diciamo collega l'altro paziente che abbiamo qui in cura noi e l'ha salvato. Questa fratellanza. Sorgono, sorgono quasi. E poi abbiamo scoperto la tragedia come poi avete visto voi. Che sta morta a pezzo. Che sta morta a pezzo. Beh, la cosa comunque continua, diciamo, che puzza. Anche per parlare, diciamo, con questo Gigi, sa questo Gigi? Sa questo Gigi. E dove possiamo... E... Volete parlare con Gigi? No, ora mi posto io. Anzi, accomodiamoci, vogliamo andare? Sì, andiamo. Andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo. Finalmente siamo arrivati sul luogo dell'accaduto. Anche se non è che... Non sappiamo ancora se questo è caduto o non è caduto. Sì, vi piace? Voi stai facendo una domanda? Mamma, hai fatto tutto? Cioè... Volevamo farvi sapere tutte le notizie concernenti l'incidente. Se c'è il morto o se è morto o non è morto. Perché sappiamo che... Che state facendo? Scusa. Che state facendo? Che riprendi tutto? Che cosa stai facendo? Che stai facendo? Che stai facendo voi qua? Eh, vi piace? Volevamo... Volevamo... Volevamo, innanzitutto parlare in italiano perché qua non è che stiamo giocando. Noi se qua c'è il morto, non piace allora. Se qualcuno l'ha fatto entrare adesso deve uscire. Ma che cosa... Che stai facendo? Che stai facendo con questo microfono? Che cosa stai facendo? A me ti devi dare? Ma che cosa stai facendo? Mi piacciono la persona? Mi ci parla? Mi piace. Ehi! Mi piacciono! Mi piacciono! Mi piacciono. Mi piacciono che... Adesso andiamo... Andiamo a fondo perché non è più qua. Già mi ha puzzato. Giagino dove sta questo? Giagino sta qua. Dove sta? Lei stai facendo? Giagino? Non è che ce l'ho con i giornalisti, ecco, però voglio dire c'è un po' di discrezioni queste cose. Non so, ma devono fare il lavoro loro. Lui è Gigino. Ah, questo è Gigino. Ehi, piacere, sono il maresciallo. Presa. Sì, collega. Piacere. Il dottore tuo, sono io. Il dottore. Tu sei un eroe, tu signore, perché hai presente quando uno dice che, come potrebbe dire? Che è un eroe. Non tanti riescono a fare quello che hai fatto tu. Cioè, salvare una persona che si è buttata nel fiume, salvarla, non è da tutti. Anni, 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 anni. Che dice qua? Comunque, ecco, una notizia brutta che ti devo dare, che la persona che tu hai salvato si è impiccata a un albero. Non lo voglio dire. Impiccato? No, che impiccato. Come? Non lo sappiamo, non l'abbiamo visto. No, ma io l'ho salvato dal fiume. Come è uscita da là? Stava tutto bagnato? Eh. Eh, e l'ho appeso ad asciugare. Eh, allora mi fa tricolare, che questo era già asciutto. Eh, era il tre quarti d'ora americano. Si piccato. Eh, era il tre quarti d'ora. Oh, ma io l'ho appeso. Eh, era il tre quarti d'ora. Oh, ma io l'ho appeso.